Tu non c'erai il brisco, la che vuoi? Spade o bastone? Bastone, non è scherzo. Non sapevo che avevo il cinesio, non c'erano. Dillo prima. Nonno, il cappello. Nonno, nonno. Tre, re, che cazzo c'è? Spade. Cos'è il mio amico? Che devo fare? Per l'amico Daniele. Sì, andiamo a pescare, vai. Salute. Carrica. Prenditi quello. E' buona la birra, salvatore. Buonissimo. Chi ha fatto? Tu. No, 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 vi che ha fatto. Aia. Aia, lo punto o almeno lo devo fare. Angela, mi porti dopo un gelato al biscotto, per favore. Questo qua vuole un gelato al biscotto. Con la Nutella. Ma chi devi fare quel filmino? Poi lo vedrai su Facebook. Ah, lo metti su Facebook. Sì, Daniele. Apro la camera. Di dove è Daniele? Perché? Non te lo dico. E non ce l'ho. Chiudo? Chiudi. Chiudi.